Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova parte di Minecraft in italiano e in questa parte mi sa che non so neanche io cosa faremo voglio controllare un po' a che stato è scusate, quanti diamanti abbiamo voglio fare una capatina nel mio deposito no, qua c'è il cibo, qua metto le sementi e il grano armi, attrezzi, minerali 8 diamanti abbiamo, comunque mi sa che me ne sono dato uno in più terra non ci serve, aspettate che nel cibo metto anche il fungo quindi io penso ragazzi che sarebbe meglio andare un attimo nelle caverne per vedere se c'è qualcosa di interessante bene, andiamo sperando, vabbè qua io mi ricordo che quando tu mi dai fastidio non mi ricordo che c'era il mondo bugato qua vicino, oh, lì c'è del carbone però ormai non ce ne facciamo più niente, o quasi ma, beh comunque allora andiamo avanti con la nostra esplorazione però voglio scegliermi un altro luogo adesso provo a scavare in questa linea qua voglio trovare tanto bel diamante io ho già se non vado erato o sento l'acqua o sento la lava allora, comunque sia adesso che registro questa parte è il 15 di ottobre cioè tanto per dirvelo e da qualche giorno siamo arrivati ragazzi a 7000 iscritti io ho fatto un video apposito per per ringraziarvi ma lo faccio anche in questo video oh, redstone no, ecco ma lo faccio anche in questo video perché appunto è soprattutto grazie a voi se il mio canale si sta riprendendo fra poco ci saranno tra qualche settimana ci saranno delle grandi novità e per questo oh, ah qua c'è la bedrock vediamo a che livello siamo a 8, 9, 10 proviamo a ecco qua c'è della redstone quindi in teoria qui vicino sì, io sento che c'è della lava o che sia qua sopra no, non credo che sia qua sopra credo che sia qua vicino proprio qui c'è del carbone vabbè metto una torcia se no ragazzi voi non ci vedete niente oh, ecco qua però qua si trova solo del ferro che peccato comunque una cosa che alcuni di voi mi chiedono mi chiedono che scuola faccio faccio un professionale commerciale che insomma non è difficile non è per nulla difficile insomma io l'avevo scelta perché non non sapevo neanche cosa scegliere però non mi trovo male io tempo fa facevo un oh oh zio qua si trova qualcosa ne sono sicuro tempo fa io facevo un un istituto tecnico però fui bocciato anzi mi feci bocciare perché fu rimandato in tre materie però non avevo voglia di di studiare l'estate per poi dare l'esame erano chimica fisica e matematica rispettivamente da tre quattro e quattro quindi ragazzi non non ecco non mi viene neanche il verbo fantastico comunque sia mi feci bocciare ecco poi adesso sono sono ad un professionale commerciale che mi pare anche parecchio facile cioè non dico facilissimo però non è difficile è una versione un po' più facile di ragioneria ecco per chi per chi per rendere un po' meglio l'idea qui non si trova più diamante anzi non l'abbiamo per niente trovato il diamante no ecco qua ci troviamo dove siamo dove eravamo prima e allora facciamo una cosa risaliamo proviamo a cercare in questa direzione anche se noi siamo adesso a livello 15 noi dobbiamo scendere un po' perché come ho già detto il diamante si trova tra oh e qua c'è dell'altra redstone e io sento la lava qua c'è dell'acqua però oh ragazzi però noi io cioè a me piacerebbe molto ho dovuto trovare anche un mob spawner e non l'abbiamo ancora trovato si sento dell'acqua sento l'acqua sento il suono ma che sia qua sopra no perché altrimenti scenderebbe giù oh diamante aspettate devo circondare l'area come faccio io usualmente eh però ragazzi sento anche della lava ma qua c'eravamo arrivati e c'era il diamante qui rendiamoci conto aspettate che guardo meglio non so quando è che ci siamo arrivati comunque qua c'era il diamante uno due tre quattro cinque sei sei diamanti perfetto e vabbè è un po' di carboncino ragazzi il diamante è il materiale più bello e più prezioso che ci sia su minecraft quindi non da sottovalutare io non ho ancora capito però a che cosa serve l'oro perché in teoria dovrebbe essere meglio molto meglio del ferro invece gli strumenti d'oro si rompono molto più velocemente di quelli di ferro io vorrei spiegarmi proprio questa cosa perché non non la capisco perché lo strumento d'oro dovrebbe essere meglio in tutti i campi di quello di ferro e invece è l'opposto è un po' un controsenso ma noi la modalità ce l'abbiamo difficile ma hanno ancora trovato qualche oh da là c'è dell'oro andiamo a prendere qualche bel mob ecco noi ragazzi nominiamo il diavolo e spuntano le corna parliamo di oro e spunta l'oro quindi mettiamoci a parlare di soldi nella vita reale e ci spunteranno i soldi magari aspettate che adesso comunque devo mangiare qualcosa perché sono affamato ok ma scusate viene giù? si si ok 4 di oro per fare il tavolo per fare il tavolo degli incantesimi ci servirebbe per di qua dove si va ma scusa ma ma là cosa c'è? no 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 aspettate che adesso voglio andare a vedere rischierò la vita ma voglio andare a vedere perché se è ancora quella quella roba là mi incazzo ma proprio sul serio ah no era un bug oh c'è uno scheletro guardatelo vabbè che credevo che credevo che ci fosse ancora l'errore dell'altra volta ecco guardate ma guardate chissà se se si trova qualche mob qua no qua non credo però più giù ah qua ci sono dei minerali eh 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 redstone redstone for the win e però mi sa che qua io siccome ho ho il fiuto di diamante caro mio bello ti sto venendo a prendere no qua non andiamo da nessuna parte proviamo a costruirci un ponte però non mi sento tanto sicuro perché ci sono dei mob qua e qua di sopra non c'è niente eh c'è l'oro ma pareva di aver visto anche dei diamanti aspettate ok ragazzi però comunque con questa parte noi terminiamo qua siamo in bilico tra la vita e la morte ci sentiamo con la prossima parte di minecraft ci sentiamo ciao 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 ciao